Bella a tutti ragazzi, scusi non è scusi, sono Blackmamba e oggi siamo in questo nuovo video Allora, lo so il video doveva uscire ieri, però ora vi spiego tutto praticamente Mia mamma è uscita quindi avevo tutto il tempo che volevo per registrare Però stavo giocando a GTA, GTA 5 online Io ho trovato una sessione moddata E allora, beh, ci ho strappato anche un piccolo video Giusto, perché avevo alcuni amici scettici che la moto della polizia Proprio non esisteva Vero, nella storia noi non la possiamo trovare Online non la possiamo trovare Però, con questa piccola mod Ho fatto anche un video, la qualità ovviamente L'ho fatto con il telefono, perché O non lo faccio pure il tutto Vabbè, e allora vedrete che lo salterà fuori E con questo siamo arrivati anche al nostro ultimo video Sull'episodio di Gardlan Questa infatti sarà la seconda parte del terzo episodio I miei capelli vanno giù nonostante io ci metto un sacco di gel Però, ora, non ci perdiamo in chiaccare E ci vediamo a questo video Bella raga Grazie a tutti I miei capelli vanno giù nonostante io ci metto un sacco di gel I miei capelli vanno giù nonostante io ci metto un sacco di gel I miei capelli vanno giù nonostante io ci metto un sacco di gel Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Vi volevo dire giusto un attimo due news che non vi avevo detto Allora, è ufficiale, mi arriva un PC da gaming E niente, finalmente riuscirò a registrare questi gameplay Utilizzerò Camtasia Studio 8 E niente, questi episodi Come vedrete, altra novità Nel prossimo video io ho già creato una intro Già pronta ma volevo terminare prima questa serie di Gardaland Per poi arrivare con la novità di GTA e mostrarvi l'intro Ecco, e nulla Essenzialmente queste qua sono le... queste due piccole news Finalmente anche la postazione Cambierò la lampada Quindi diventerà quella ufficiale 99% avrò anche subito una webcam Se no sarà un po' più complicato O non la metterò proprio Comunque finalmente riusciamo a fare questi santi gameplay E niente, questo video è terminato Spero che vi sia piaciuto Lasciate un pollicione su Iscrivetevi al mio canale E condividete C'è sicuro che a me fa molto piacere E niente, ci vediamo al prossimo video Prossimo video Non prendetemi per il culo Bella raga